Amici 3B Meteo benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni a medio e lungo termine andiamo a vedere cosa accadrà ormai verso il 20 del mese periodo 18-20 di novembre bene non cambia di molto la situazione ancora volta manca una zona di alta pressione sul Mediterraneo che tenga lontane le perturbazioni atlantiche le quali invece trovano via libera per entrare proprio sul Mediterraneo e raggiungere così il nostro paese ancora una volta sarà quindi un periodo molto movimentato soprattutto per il centro nord dell'Italia che vedrà le perturbazioni un pochino più insistenti e frequenti al sud anche temperature un po più miti grazie anche a correnti un po più meridionali che appunto tengono lontano il freddo però ripeto variabilità piogge e nuvole sanno davvero ancora la caratteristica per questa parte del mese con questo è tutto per i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo